Che quando sono venuti i terronisti che hanno tirato la bomba a mano, sai che ho fatto? Sai che ho fatto? Porchi mondo che sono sotto i piedi, ho preso la bomba a mano, l'ho mangiata, porchi mondo. Sono andato fuori, ci ho fatto un rutto, ci ho incenerito la macchina a 150 metri. Andata male, eh? Purtroppo prima o poi succede a tutti. Sì, ma quando capita a te però... Lady Molinari, Luca, l'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre corri.